Dobbiamo urlare forte che noi dobbiamo contrastare con tutti i mezzi, in tutti i modi, con tutte le nostre forze del terrorismo, ma dobbiamo continuare a non avere paura e quindi a fare quello che stiamo impegnati a fare. Il concetto è che noi siamo pronti e allarmati, attenti alla sicurezza, alla lotta contro i terroristi, ma da questo a passare all'allarmismo che è quello che loro vogliono, dobbiamo evitare che avvenga. Aggiungo anche che però data la giornata che con questa notizia, tutti ci sono svegliati con questa notizia particolarmente triste e dolorosa e preoccupante, io alle 12 e mezza come sindaco dell'Angela Città e quindi rappresentante di tutti i milanesi andrò a visitare e quindi a chiedere anche cosa possiamo fare come città di Milano il rappresentante dell'Unione Europea a Milano, Commissione e Parlamento Europeo e vedrò probabilmente alle 11 il console onorario del Belgio.